Nessun condono a Pesero per le tasse comunali non pagate sotto i 1.000 euro. Il sindaco Matteo Ricci va controcorrente allo stralcio avanzato dal governo Meloni che attraverso la legge di bilancio 2023 prevede che le multe non pagate, così come le tasse pendenti ai comuni, come IMU o Tari fino al 2015, vengano rottamate in assenza di una delibera in senso contrario. La Giunta Ricci però è andata controcorrente proprio nell'ultimo consiglio comunale esternando il fatto che non ci sarà nessun condono. Fino al 2013 il tema era di competenze di Equitalia, mentre a Pesero nel 2014-2015 la riscossione è passata ad Aspes che, solo per il bienio in questione, sarà incaricata di recuperare 8.800 cartelle esattoriali per un ammontare di 1.600.000 euro. Una voce che riguarda soprattutto gli interessi morosi. Il tema ha acceso la discussione in consiglio comunale con il centrodestra che l'ha giudicata, una scelta che costerà più in spese di riscossione rispetto ai tributi che saranno effettivamente recuperati. Tema tributi sul quale il Comune ritiene però di aver già teso una mano fra bonus Tari e agevolazione sul caro bollette. Per i quasi 9.000 morosi, Aspes procederà prima con una lettera d'avviso per poi passare a ingiunzioni di pagamento.